In collaborazione con A5, Wheel Frontalieri, BIM, Bacino Imbrifero Montano del Ticino, Autorità di Bacino dell'Ario e dei Laghi Minori, CNA, ECAP, CGL. BORDER STORI DI CONFINE Viabilità intesa sia come strade, come infrastrutture viarie ma anche come possibili alternative a un traffico che sta diventando sempre più insostenibile. I numeri di partenza sono quelli appena diffusi dall'ufficio di statistica, dall'ufficio delle strade del canton Ticino che ha calcolato le ore che nel 2022 in Svizzera sono state passate in coda. E siamo a un numero impressionante, circa 40.000 ore di code, di cui buona parte anche sulle strade del canton Ticino. Partiamo da questi numeri, poi ne parleremo anche con un referente dell'ufficio federale delle strade. Ma intanto do il benvenuto a Matteo Mandressi, buonasera. Buonasera a tutti. E la CGL di Como e buonasera a Sergio Erculiani, sindaco di Porlezza. E allora, abbiamo detto, partiamo da questi numeri che ha appena diffuso l'ufficio strade e poi approfondiremo proprio con loro. Tra l'altro è un aumento record, è il più 22% di ore trascorse in coda rispetto all'anno precedente. Numeri che sono tornati ampiamente superiori a quelli pre-pandemia. È uno spunto per riflettere proprio sul tema della viabilità. E parto da Mandressi perché spesso, quando parliamo di frontalieri, il tema della viabilità, il tema della sostenibilità anche del trasporto dei frontalieri è in primo piano. Sì, è vero. È, diciamo, l'emergenza che riguarda anche e soprattutto il mondo del lavoro in Canton Ticino e il mondo del lavoro frontaliere. Pensare che una persona che si reca sul proprio posto di lavoro ha un tempo così ampio da passare nello spostamento in una condizione ovviamente disagevole, perché stare in coda non è piacevole per nessuno, lo traduciamo in qualità di vita e anche in un costo economico. Il problema è esploso negli ultimi anni ed è una situazione in crescita, esponenziale e continua. I numeri dei frontalieri crescono, cresce però il tempo che si passa in coda. Ovviamente non è un problema solo dei frontalieri, ma è un problema dei residenti, è un problema dei turisti, è un problema delle persone che si spostano sulle strade. E quindi è necessario focalizzare ancora di più l'attenzione e cominciare a lavorare seriamente per trovare delle modalità alternative al traffico su strada. Perché l'emergenza è quella di cominciare davvero a pensare di ridurre le persone che si spostano spesso su un solo autoveicolo e le modalità alternative ci sono. Per fare questo, però, visto che stiamo parlando di mobilità trasfrontaliera, non si può lavorare a compartimenti stagni al di qua, al di là del confine, ma bisogna trovare necessariamente delle sinergie. Sindaco, territorio di frontiera, gli ultimi numeri della vostra zona sul traffico, proprio legato in particolare alla Svizzera, quali sono? Gli ultimi conteggi parlavano di circa 5.000 macchine in entrata la mattina e 5.000 macchine in uscita la sera, con dei picchi anche maggiori il lunedì mattina e il venerdì sera, ovviamente perché c'è anche il traffico di qui passa la settimana oltre confine. Sono numeri in aumento, avete un confronto con gli anni precedenti? Non abbiamo dei dati puntuali, però sicuramente si percepisce un aumento di traffico, proprio dimensionalmente da coda, e diventa anche veramente un problema. Ultimamente abbiamo avuto almeno tre investimenti sulle strisce pedonali, quindi è anche una questione di sicurezza che va considerata molto attentamente. Qualcosina però, diceva, sta migliorando sul fronte del non viaggiare da soli, ecco, non spostarsi almeno una persona per macchina. Sì, Porlezza ha la fortuna di avere diversi parcheggi disponibili, ma non chiaramente nel centro ma appena fuori, e proprio dalle dinamiche si nota che cominciano a essere utilizzate per una sorta di carpooling, per cui qualcosa in questo senso si sta muovendo, anche se credo che la soluzione debba essere ricercata in qualcosa di più strutturale. E allora, sentiamo queste proposte tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. Bentornati a Border, allora diamo subito il benvenuto anche a Eugenio Sapia, buonasera. Buonasera a voi. Che vedo collegato dell'Ufficio federale delle strade. E allora, siamo partiti proprio dai vostri numeri, dai numeri che avete pubblicato recentemente, che hanno quantificato quante ore sulle strade svizzere nel 2022 sono state trascorse in coda. Ce lo puoi spiegare meglio? Sì, in sostanza si tratta di un aumento rispetto al passato, sono le ore in coda dovute sostanzialmente al sovraccarico della rete, quindi un 80-90% delle cause all'origine di queste colonne sono legate al sovraccarico dell'autostrada, quindi una mancanza di capacità dell'autostrada. E questo soprattutto attorno ai principali agglomerati della Svizzera, compreso evidentemente quello di Lugano. Ecco, infatti abbiamo visto che il Ticino è una delle zone in cui comunque si passano molte ore in coda. Sì, esatto, abbiamo un problema di capacità già da tempo, soprattutto fra Lugano e Mendrisio. Ad ogni modo abbiamo già approntato alcune misure a corto termine per cercare di superare nel limite del possibile questi problemi di capacità e parlo in particolare del sistema di armonizzazione di limiti variabili di velocità, in sostanza viene ridotto il limite di velocità durante le ore di punta a 100 piuttosto che a 80 km all'ora in modo che l'autostrada possa trasportare più vetture, questo appunto soprattutto nelle ore del mattino in direzione nord e della sera in direzione sud. Quanto incidono i frontalieri, secondo le vostre stime ovviamente, su questo tipo di traffico, soprattutto ovviamente nelle zone di confine? Allora, cifre esatte sul numero di passaggi non le abbiamo. Evidentemente il traffico generato dai frontalieri incide, ma però bisogna dire anche che gran parte del traffico si genera all'interno del comparto. Quindi, ad esempio, una persona che si sposta da Mendrisio a Lugano o da Lugano a Chiasso, ecco, anche nel comparto stesso c'è un grosso numero di spostamenti proprio perché ci troviamo nei pressi di un agglomerato urbano importante. Sindaco, il traffico dei frontalieri nella vostra zona è comunque ancora principalmente su gomma. Le alternative ci sono, ma sono ancora sottoutilizzate e nonostante questo però si sta lavorando per cercare di valutare e proporre soluzioni diverse. Sì, già 15 anni fa è stato fatto uno studio attraverso un interreg dove erano state recepite le disponibilità dell'utenza a utilizzare l'alternativa del collegamento via lago. Ed è remerso che ben 500 utenti erano disposti su tre corse in andata e tre corse in ritorno a utilizzare questo tipo di mezzo. Tant'è che l'autorità di Bacino recentemente ha partecipato a un bando dove sembra ben posizionata e potrebbe acquisire un attante nuovo a propulsione elettrica, tra l'altro anche più veloce degli attuali e potrebbe essere un principio di sperimentazione di questa soluzione. Ovviamente sarà gestito la società di comunicazione Lago di Lugano perché è un contrarente vincolato essendo il gestore, il concessionario del trasporto sull'acqua. Poi qualche anno fa avevo lanciato una proposta che però è caduta un po' nel vuoto, quella di un trasporto a fune che tra l'altro anziché arrivare a Lago, arriverà in stazione e quindi nell'app dei trasporti e avrebbe una flessibilità maggiore perché a fronte di tre corse possibili, creabili a Lago, lì il numero sarebbe potenzialmente estremamente maggiore e distribuito su un arco giornaliero più ampio e quindi andrebbe anche a interessare il trasporto legato al turismo perché l'incremento del turismo è notevole, sulla Regina si parla di 30% in più che va sicuramente ad aggiungersi a quello che già esiste. Accennavamo prima, le soluzioni non si possono trovare ragionando solo da una parte. Sono un po' in ritardo ma in teoria a breve dovrebbero esserci i nuovi bandi interreg. C'è qualche soluzione, qualche idea che probabilmente potrà essere proposta in questo ambito o in questo momento ancora siamo un po' in alto mare? No, allora secondo me, visto che recentemente come ad esempio con il Consiglio Sindacale Interregionale ci siamo trovati a discutere anche di questi argomenti e l'idea di presentare dei progetti nell'ambito della programmazione interreg dove il punto cardine è proprio quello della mobilità e della mobilità trasfrontaliera è sicuramente una cosa che abbiamo condiviso tutti. Quindi nella scala delle gerarchie la mobilità è il primo punto e quindi questa è un'opportunità che sicuramente non ci lasceremo sfuggire. Poi è ovvio che ci vuole un protagonismo dell'istituzione del decisore politico perché abbiamo visto ad esempio, io l'ho fatto documentandomi un po' ad esempio per prepararmi a questa trasmissione, che sul versante svizzero, in questo caso canton ticino le istituzioni cantonali hanno fatto già una parte interessante di lavoro. Ad esempio vedo che il Dipartimento del Territorio piuttosto che l'Ufficio Federale dell'Energia finanziano piani di mobilità aziendale alternativa e queste sono esperienze interessanti perché si parte da un assunto, l'abbiamo sentito adesso dall'intervento dal canton ticino che la rete autostradale satura, quindi non possiamo intervenire su quello. La morfologia del territorio non lo permetterebbe neppure perché c'è un'unica direttiva e non si possono ovviamente costruire altre strade. A questo punto si tratta di incentivare misura banale che però prima della pandemia era utilizzata e adesso torna ad esserlo, il carpooling, perché se 5 persone vanno sullo stesso posto di lavoro con 5 macchine è diverso che 3, 4, 5 persone utilizzino un unico mezzo. Per questo ci vogliono però delle strategie intermodali, quindi parcheggi e cominciamo a togliere persone dall'auto. Trasporto pubblico, anche qua strategie di trasporto pubblico sinergico tra Italia e Svizzera e la gente sale su un pullman piuttosto che su un'auto. Ferro, quindi trasporto su rotaia. E questi sono tutti elementi sui quali investire che però devono vedere delle scelte coraggiose e ripeto soprattutto sinergiche tra i due paesi Italia e Svizzera. Siamo arrivati a un punto di saturazione. Se la prospettiva è quella di continuare a congestionare le strade non ne usciamo e invece la prospettiva è quella di studiare anche misure alternative. Ad esempio la cosa che adesso proponeva il sindaco di Porrezza è sicuramente una fascinazione, una suggestione interessante e probabilmente se la propone è perché ci sono anche delle concretezze, delle possibilità di metterla in opera, però significherebbe una misura alternativa ecologicamente sostenibile che tra l'altro dà uno sviluppo anche a un territorio che ha necessità di modalità alternative di trasporto per il turismo. Perché oggi tutti i turisti, e io ho più sull'occhio la situazione della regina dalla parte di como menaggio eccetera, pullman e auto. Non è possibile immaginare che ci sia un ulteriore flusso oltre a quello del flusso del lavoro. Di conseguenza è necessario trovare una strategia alternativa. Torno da Sapia su questo concetto delle sinergie, perché volevo capire intanto quali soluzioni state valutando a livello appunto di Ustra, oltre ad esempio a quella che ci ha spiegato prima legata alla velocità, se ci sono altre soluzioni su cui state lavorando e poi soprattutto come pensate di poter lavorare in sinergia con l'Italia? Sì, rilacciandomi a quello che ha appena detto il vostro ospite nell'ultimo intervento, oltre a questa misura a corto termine di cui ho parlato prima dei limiti variabili di velocità, nell'ambito del progetto di sviluppo strategico delle strade nazionali sono stati varati dal dal Parlamento circa 6 miliardi di franchi allo scorso mese di febbraio per potenziare e ottimizzare la rete delle strade nazionali in Svizzera, in particolare parlo del progetto di potenziamento Lugano-Mendriso, il cosiddetto Polume, un progetto da 1,7 miliardi che mira a utilizzare la corsia d'emergenza sempre durante le ore di punta come corsia di scorrimento, un sistema che viene già utilizzato in altri paesi come in Olanda, personalmente ho avuto modo di provarlo, penso che anche in Svizzera ci sono stati dei test nei pressi di Lausanna, i test che hanno dato dei buoni risultati, noi interverremo sul territorio, in questo modo la questione grossa sarà quella di creare la terza corsia dove ci sono le gallerie, la galleria del San Salvatore di Maroggia, lì bisognerà scavare altri trafori per permettere proprio di avere una corsia di emergenza per utilizzarla come corsia di scorrimento. In questo contesto si inserisce anche il carpooling di cui parlava l'ospite in precedenza, abbiamo previsto di eventualmente utilizzare questa corsia negli orari non di punta, ad esempio riservandola al carpooling. Un altro elemento importante di collaborazione trasfrontaliera per rispondere alla sua domanda è un progetto dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale che sta studiando quali siano i corridoi ideali, in che modo prolungare sia il transit a sud di Lugano ma anche a livello di percorsi stradali. Siamo ancora veramente agli inizi però qualcosa si sta muovendo e questo dovrebbe essere un ulteriore progetto che coinvolge oltre all'Ufficio federale delle strade, il cantone, i comuni e sicuramente anche l'Italia, dovrebbe essere un ulteriore elemento che potrebbe sicuramente migliorare la situazione rispetto a quella attuale. Ma chi sono i vostri interlocutori in questo caso? Cioè il concetto ad esempio della regione subrica piuttosto che dei rapporti diretti con la regione Lombardia, con la Commissione Italia-Svizzera cioè ci sono già dei tavoli, dei fronti aperti nei quali si lavora anche su questi temi? Guardi, noi all'Ufficio federale delle strade no, direttamente no, questo viene fatto a livello politico dalla nostra centrale di Berna, dal nostro consigliere federale, insomma dal nostro capo dipartimento noi come Ufficio federale delle strade abbiamo il compito di gestire e di mantenere le strade nazionali tutto quello che è poi il processo politico o i rapporti fra le due nazioni questo è un settore che viene gestito dalla nostra centrale di Berna, quindi a livello politico. Ecco, sono soluzioni quelle che abbiamo sentito spiegare proprio appunto adesso sono soluzioni sicuramente magari a livello di palliativo che non possono risolvere tutti i problemi però sono comunque dei tentativi concreti che difficilmente si vedono sulle nostre strade penso all'esempio dell'autostrada A9, anni di Calvario che non sono ancora finiti e difficilmente però se stiamo anche solo a ipotesi di questo tipo di intervento. Sì, sono d'accordo, non c'è tra l'altro lo stesso approfondimento da un punto di vista teorico dello studio e dei numeri perché a noi manca anche questo tipo di approccio. La cosa che è molto interessante e questo lo dico da spettatore esterno però interessato è questo approccio che prima studia il fenomeno e lo pone in modo critico e poi su vari ambiti perché tutto si concentra poi verso la soluzione propone una serie di ipotesi che possono apparire anche minime sotto alcuni punti di vista però in realtà sommate vanno a trovare delle soluzioni. Noi al di qua del confine abbiamo risorse e qua faccio riferimento ad esempio e poi ne parleremo sicuramente al nuovo accordo fiscale che quando verrà approvato in modo definitivo prevederà che il famoso extragettito cioè le tasse che rimarranno sul territorio italiano che inizieranno ad essere un quantitativo limitato per i primi anni ma poi cresceranno, possono essere utilizzati dai comuni che sono gli stessi oggetto di ristorni per progetti di carattere sociale ed economico. Ecco, queste sono risorse che possono essere impiegate con un protagonismo dei comuni che devono essere i primi interlocutori del territorio per cercare di mettere le mani in problematiche che non sono ovviamente solo quelle della mobilità ma quelle della mobilità sono sicuramente importanti. Seconda cosa e chiudo su questo, come organizzazioni sindacali proprio ieri abbiamo avuto un primo incontro con il sindaco di Varese e stiamo proponendo un accordo quadro che cerchi di coinvolgere oltre che Varese come capofila le città di capoluogo di frontiera, quindi Varese, Como, Sondrio e Verbano Cusiossola per creare una strategia comune che possa andare proprio nella direzione di analizzare e proporre delle alternative a una problematica che anche qua ha come prima casistica quella della mobilità e a seguire le altre. Sono tentativi che però vanno nella direzione di farsi carico di un problema. Sindaco, la interpello proprio su questo tema dei ristorni e delle possibilità poi di utilizzare anche le risorse su opere, interventi che vadano a vantaggio del territorio e dei frontalieri. E poi subito dopo avremo un servizio proprio su questo tema del tavolo avviato a Varese proprio per cercare di lavorare anche sul tema delle istituzioni. Ma il problema è che anche quando ci sono risorse non è sempre facile fare le opere. Faccio un esempio concreto. Noi abbiamo un impianto semaforico nel 2002 abbiamo reperito i fondi attraverso un finanziamento Cipe come Comitato Istituzionale Stata Regina e Provincia di Como per circa 500 mila euro. A oggi non siamo ancora riusciti a ottenere nulla osta di Anas con un sacco di cavilli, con una pervicaccia proprio nel ostacolare questa opera che doveva essere solo autorizzata, finanziata, solo da autorizzare. Siamo arrivati a chiaramente che il Cipe era evocato il finanziamento e quindi siamo lì ancora con i nostri semafori e la coda che si forma tutte le sere. È praticamente incomprensibile. Adesso sembra ritornare in auge perché è proprio stato uno degli argomenti che è venuto fuori sui tavoli di coordinamento con la bina di regia che ha coordinato proprio su eccellenza il prefetto e sembra che ci sia qualche spiraglio. Però è veramente incomprensibile avere un'opera finanziata e trovare solo problemi per ostacolarne la concreta realizzazione. E prima di vedere il servizio volevo solo chiedere un'altra cosa su questo a Sapia perché appunto ci ha incuriosito molto con le proposte di cui parlava prima e volevo chiederle, ho citato l'A9 prima perché effettivamente il tema del traffico sull'A9 ormai davvero è una costante da anni per quanto riguarda i frontalieri. Sul fronte ecco del collegamento, dei collegamenti autostradali, autostrade che passano da un paese all'altro, non si lavora in modo comune su possibili soluzioni come quelle che lei proponeva? Purtroppo no. Purtroppo ogni paese gestisce la sua parte, la sua rete quindi non ci sono delle collaborazioni in questo senso. Ecco, noi arriviamo fino a Chiasso, fino a Piazzale doganale, insomma, dopodiché l'Italia che si occupa di organizzare i cantieri. E avete ripercussioni ad esempio appunto per i cantieri sul territorio italiano? Ma no, come ho detto prima, il cantiere è solo una minima percentuale di cause di ore colonna in Svizzera e immagino anche in Italia perché al principio è lo stesso, noi non abbiamo mai una riduzione di capacità dell'autostrada con un cantiere, in altre parole manteniamo sempre due corsie per direzione di giorno, quindi il cantiere non è la causa prima, anzi è una delle ultime con gli incidenti autostradali all'origine di queste colonne. Allora, andiamo a fare una piccola parentesi proprio per collegarci al tema dell'accordo fiscale e di quello che si sta iniziando a fare a Varese. Vediamo il servizio. Il Comune di Varese ha attivato un tavolo di confronto sulle tematiche legate ai lavoratori frontalieri dopo l'approvazione definitiva del nuovo accordo fiscale. Sarà istituito anche uno sportello informativo per fornire indicazioni e chiarimenti sui cambiamenti e le novità in atto. Nelle scorse ore è stato convocato un nuovo incontro tra l'amministrazione comunale di Varese e i sindacati dei frontalieri. Il nuovo accordo porterà a una maggiore tranquillità delle migliaia di frontalieri che ogni giorno si recano in Svizzera per lavoro, ma consentirà anche di aprire tutta una serie di opportunità che intendiamo cogliere, sottolinea Ivana Perusin, vice sindaco di Varese. Meritoria l'iniziativa del Comune di Varese, dice Giuseppe Augurusa, responsabile nazionale frontalieri della CGL. Molte le soluzioni possibili rispetto ai temi del welfare locale e dei servizi, della mobilità sostenibile, della formazione e informazione di lavoratori e imprese, delle buone prassi amministrative con i cantoni, temi per cui il confronto con la rappresentanza sociale del territorio è una grande occasione che la Municipalità sembra determinata a voler offrire. Auspicabile che il Comune possa farsi anche parte attiva per coordinare l'area vasta di frontiera. La definizione di linee guida comuni è per noi la giusta modalità per poter realizzare gli obiettivi comuni. La ratifica del nuovo accordo fiscale tra Italia e Svizzera apre una nuova stagione per i lavoratori frontalieri, spiega Pancrazio Raimondo, segretario generale Will Frontalieri. Valutiamo positivamente la tempestiva iniziativa del Comune di Varese di attivare un tavolo di confronto che metta a fuoco le azioni immediate a sostegno dei lavoratori frontalieri e delle loro famiglie, con la giusta ambizione in prospettiva di promuovere il coinvolgimento dei diversi attori al di qua e al di là del confine per raccogliere le nuove sfide di sviluppo economico e sociale aperte dall'attuazione delle misure del nuovo accordo. Ancora una volta torniamo al tema della collaborazione. Torno un attimo da Eugenio Sappia per chiederle di una situazione un po' paradossale che ho letto per quanto riguarda la Svizzera nel ponte dell'ascensione. È stato fatto, leggevo, nei Grigioni questa sorta di esperimento di creare un ingorgo volontariamente in una zona proprio dei Grigioni in modo da evitare che le macchine in coda sull'autostrada, la A13 se non sbaglio a citare le strade, si riversassero sulla viabilità ordinaria proprio per evitare le code. È stato fatto questo esperimento appunto creando un blocco in qualche modo, un ingorgo voluto in modo che i navigatori non segnalassero come percorso alternativo quello dell'attraversamento dei paesi. Mi sembra ovviamente una situazione un po' paradossale, infatti è stata citata in tanti casi. C'è questo problema legato alle code e quindi ai veicoli che escono e questa soluzione un po' estrema ha portato all'attenzione il problema? Sì, il problema c'è e ci stiamo lavorando già da alcuni anni, diciamo da alcuni anni perché la questione è legata, giustamente come ha detto lei, al fatto di attraversare i paesi per evitare la colonna in autostrada. In sostanza quando c'è colonna la gente esce dall'autostrada e passa attraverso i paesi dove ci sono passaggi pedonali, bambini, biciclette, insomma soprattutto il fine settimana, durante il fine settimana di spostamento. Ecco, e questo sta creando dei disagi nei grigioni ma anche nel cantonuri, questo succede anche nel cantonuri e in Ticino in parte succedeva anche fra Quinto e Airolo quando c'era la colonna al portale sud della galleria del San Gottardo. Per evitare questi fenomeni, diciamo, appunto come dicevo già da anni con la polizia cantonale grigionese e urana si lavora per chiudere le uscite e cercare di fare rimanere per quanto possibile il traffico in autostrada. È chiaro che è stata un po' una butade, è stato un po' un episodio sì che ha riportato il tema al centro del discorso però la situazione è conosciuta e sicuramente questa non è la misura più adatta per risolvere questo problema che comunque esiste. Se mi permette vorrei aggiungere che noi in Ticino abbiamo dall'anno scorso aperto una corsia preferenziale denominata Cupra che da Quinto in direzione nord verso il San Gottardo porta direttamente al paese di Airolo e al passo del San Gottardo o al passo della Novena senza che l'automobilista debba sostare in colonna. In sostanza è una corsia preferenziale. Questo per esempio ha portato dei grandi benefici ai paesi di cui parlavo prima, Quinto, Ambrì, fino ad Airolo che in passato soffrivano di questi passaggi parassitari, chiamiamole. Ecco sindaco, è un tema in qualche modo sentito anche da voi, il tema della viabilità di attraversamento? Assolutamente sì, di fatti per evitare i semafori ci sono due strade, una verso la Varrezio e l'altra verso la Valli Intervi che costantemente pur essendo strade interne, una anche con calibri non adeguati vengono utilizzate per saltare la coda semaforica. Soluzioni? Avete pensato anche voi di creare un ingorgo ad hoc? No, basterebbe che mettessi il divieto di transito, riservassi solo il transito locale, il problema è che avremmo la coda fino a Lugano e per rispetto delle persone che lavorano non lo faccio anche se ribadisco ho questa un po' di accredine verso Anas che ha trovato 100.000 cavilli per non autorizzare questa rotonda che per dimensioni, per caratteristiche, geometrie, tra l'altro progetto rivisto anche in collaborazione con l'Ufficio Tenico Provinciale che insomma penso di rotonda ne faccia però non c'è stato verso di avere, speriamo adesso con, ripeto, l'interessamento. Anche perché lo stiamo rivivendo comunque assolutamente ancora anche col tema della Regina tra l'altro e di questa ordinanza attesa ormai da settimane che comunque ancora tarda ad arrivare e non si capisce cosa succederà, ormai la stagione è entrata nel vivo. E certo, quello è un provvedimento da attuare immediatamente perché ogni settimana leggiamo degli incolonamenti sulla Regina e per chi ci vive e lavora in quella zona è diventata una condizione insostenibile che si trascina da anni ma che adesso è esplosiva. Ma che sia anche per i frontanieri perché comunque diciamo non sapere quando si arriverà a destinazione e il tempo di durata del viaggio verso il lavoro è comunque una situazione che crea stress, peggiora le condizioni della vita del lavoratore. No ma ci sono anche delle relazioni per cui se uno ad esempio ha una figlia da andare a prendere all'asilo e deve fare quel tratto di strada non può programmarsi perché tutte le volte che si mette in macchina è un'incognita, il tempo di percorrenza è una cosa insostenibile. A tal proposito mi auguro che a nessuno venga in mente di fare un ingorgo per finta perché dice l'abbiamo già quindi non c'è bisogno, c'è già la sperimentazione tutti i giorni. A proposito di nuove infrastrutture, Satia, ne avevamo parlato anche in una puntata proprio qui a Border di questo progetto che riguarda la A2 e la zona di confine tra Como e la Svizzera, questo progetto di interramento che dovrebbe portare fino al 2050 con un grosso investimento proprio per creare una viabilità diversa, a che punto è questo progetto? È concreto o al momento è un'ipotesi non sostenuta? Allora, si tratta di un progetto che non è promosso da noi, dall'Ufficio federale delle strade, quindi dalla Confederazione, ma da un gruppo di architetti e di politici del Basso Mendrisiotto che hanno preso anche contatto con noi per mostrarci le idee. Insomma è un'idea attualmente ancora non concreta direi, è l'unico progetto di copertura, l'unico progetto concreto di copertura autostradale approvato e finanziato è quello del paese di Airolo, appunto l'imbocco della Galleria del San Gotardo dove stiamo costruendo il secondo traforo. Il paese è stato danneggiato per anni dalla presenza di cantieri, dal traffico in sostanza, quindi Confederazione e Cantone hanno approvato questo progetto di copertura. Sono progetti interessanti, gli altri se ne parlava anche a Bellinzona, se ne parlava anche fra Rivera e Lugano, sono progetti interessanti che però costano e quindi la priorità per l'Ufficio federale delle strade e per la Confederazione, in questo contesto comunque di risparmi è quella di mantenere la strada nazionale, di conservarla e quindi l'ampliamento e le coperture non rappresentano le nostre priorità, proprio perché c'è un budget e bisogna finanziare quello che è necessario e quello che è utile al mantenimento della strada nazionale. E allora torniamo con gli ultimissimi approfondimenti tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. E allora siamo nei minuti finali della trasmissione, torno da Eugenio Sappia perché poi abbiamo proprio un problema di vincolo, di collegamento e quindi dobbiamo salutarlo. Volevo capire, ce lo stavo accennando prima, questo progetto di cui parlavamo anche che riguarda l'autostrada 2 al momento non è tra le priorità e quindi difficilmente si parla di concretizzarlo nei termini indicati. Quali sono invece a livello di nuove infrastrutture, ce l'ha citato quella di Airolo, ce ne sono altre? A livello di infrastrutture, le priorità, i lavori in programma che sono già stati pianificati e che possono in qualche modo interessare anche i frontalieri? Ma no, a livello di infrastrutture no. C'è da dire che sul tratto picinese della 2 noi siamo tenuti appunto alla manutenzione, alla protezione fonica, quindi alla posa dei ripari fonici, alla costruzione di nuovi impianti di trattamento per le acque, quindi con grande attenzione al tema dell'ecologia. Ecco, questo è quello che eseguiamo quotidianamente nei nostri progetti. C'è il progetto che ho citato prima, le nuove infrastrutture, se il progetto seguirà il suo iter, quindi il potenziamento Lugano-Mendrisio, a partire dal 2030 inizierà questo enorme cantiere che dovrebbe cambiare e rivoluzionare il sistema aviario del Luganese. Invece per le misure alternative che ci ha indicato prima, avete già qualche dato sull'efficacia? Penso ad esempio a quello della velocità controllata, limitata, quello che ci ha spiegato prima. Ci sono già anche dei report su come possano funzionare, che effetti possano dare? Sì, dunque i limiti variabili di velocità nelle ore di punta hanno il pregio di aumentare la capacità dell'autostrada e questo lo si è notato, adesso non ho le cifre in dettaglio, però si è notato che effettivamente l'autostrada in questo modo aumenta la propria capacità e quindi dà la possibilità di trasportare un maggior numero di veicoli. Anche questo sistema lo si utilizza in altre parti d'Europa e del mondo, quindi sicuramente è un sistema che funziona. È vero, è un pagliativo, però come ripeto, grazie a questo progetto di potenziamento Lugano-Mendrisio e Polume potremmo veramente dare una svolta a questa situazione. E invece nell'utilizzo della corsia di emergenza, come poi si va ad ovviare al tema delle eventuali situazioni da gestire? Ecco, praticamente è già un sistema che viene utilizzato, quindi c'è già esperienza sul tema. In sostanza se si verifica un problema in una delle tre corsie con la segnaletica si riesce a creare gli spazi per il passaggio dei mezzi di soccorso e della polizia. In sostanza si chiude una corsia e quindi i mezzi di soccorso riescono ad arrivare sul punto dell'incidente, ad esempio. Allora, io ringrazio davvero Eugenio Sapia per essere stato con noi questa sera, portavoce appunto dell'Ufficio Federale delle Strade. Buon lavoro e torneremo a chiederle aggiornamenti. Grazie. Grazie a voi, buona serata. Ecco, è sempre interessante comunque quando si sente parlare di soluzioni concrete, anche di queste che possono sembrare in qualche modo dei palliativi, però che di fatto vanno comunque almeno a tentare di porre un freno a un problema che ogni giorno sembra più critico anche sulle nostre strade. Certo, certo, è proprio così. A proposito di soluzioni concrete, in chiusura di trasmissione mi permetto di lanciare un appello. Allora, visto che Border ha uno share altissimo come trasmissione, sicuramente ci seguono i parlamentari del territorio e delle aree di frontiera. C'è una misura banalissima, semplice, che si attua in poco tempo e che toglie un po' di persone dalle strade, che si approvi una norma sul teleravoro, che lo si faccia rapidamente, perché l'abbiamo detto tante volte qua, il paradosso è che noi abbiamo inserito dentro l'accordo fiscale una norma che scadrà alla fine del mese di giugno, un accordo che non è ancora vigente. Quindi in realtà questa norma non sarà mai attuata. Retroattiva e mai attuata. Facciamo una chiamata ai politici svizzeri che si dichiarano e si sono già dichiarati disponibili, si faccia un accordo amichevole, il 40% può essere una percentuale ragionevole, però almeno si dà una risposta alle esigenze di, non tutti i lavoratori ovviamente, perché tutti non possono fare teleravoro, ma è un'esigenza sentita e, ripeto, pure in minima parte toglie un po' di persone per una parte della settimana lavorativa dalle strade. Quindi iniziamo dalle cose banali, semplici e concrete. È un tema che impatta anche sul vostro territorio? I vostri frontalieri sono più comunque legati a settori che non possono fare il teleravoro? Credo che siano più legati a settori meno legati al teleravoro, anche se sicuramente è una soluzione molto intelligente che è un po' l'ascito positivo del Covid, cioè insegnato che si può anche lavorare tranquillamente da casa e produrre nello stesso modo. Quindi anch'io condivido questo pensiero, a prescindere da quale possa essere l'utilità proprio per le nostre zone. Anche perché io abito proprio sulla strada, alle 4 e mezza di mattina comincia già il traffico dei frontalieri, quindi non è una banalità. E visto che siamo andati sul tema del teleravoro e dell'accordo, sui ristorni, prima o poi non l'abbiamo fatta intervenire, avete qualche preoccupazione in vista dell'approvazione dell'accordo? Oppure c'è comunque una sicurezza? Lasciare la vecchia strada per la nuova crea sempre qualche attimo di preoccupazione. Però il tema di mobilità va bene, quindi. Il tema di mobilità sì. No, in questo momento ad esempio sul tema ristorni, non so, sappiamo che sono fondamentali per l'economia dei territori di frontiera. Qualche esempio ci faccia di progetti che state attuando con i ristorni? Diciamo che stiamo completando la nuova scuola che a fronte anche di un finanziamento del MIUR ha visto comunque una grossa compartecipazione nostra con fondi frontalieri. Stiamo realizzando un nuovo centro natatorio dove una parte, una fideuzione di un'iniziativa che non è andata a complimento. Abbiamo incassato due milioni e mezzo, ma altri due milioni circa li abbiamo recuperati dai fondi frontalieri. E sono tutte opere che non sono solo a porlezza, ma servono poi a tutto il territorio. Quindi solo quei due cantieri hanno un valore di circa 10 milioni di euro. Il tavolo di cui parlavamo prima, avviato a Varese, si propone proprio anche di lavorare su questi temi? Sicuramente, anche perché l'attuazione del nuovo accordo prevede una sana e giusta preoccupazione, ma una sorveglianza sullo sviluppo di tutto quello che nell'accordo, grazie al lavoro sia delle organizzazioni sindacali ma anche dell'associazione dei comuni di frontiera, è stato compreso. Quindi i momenti di confronto diventano necessari e consustanziali per poter avere una vigilanza, ma anche un'applicazione concreta in questo senso, finora è stato fatto un buon lavoro, ma è solo l'inizio. C'è un'apertura a risposte al progetto partito da Varese e degli altri territori interessati? Lo verifichiamo sicuramente in questi giorni, quindi colgo l'occasione per lanciarlo pubblicamente, proporremo in questo caso al sindaco di Comunica, il nostro interlocutore, di essere parte significativa e trainante della discussione. Io sono sicuro e mi auguro che sia un beneficio per tutti, quindi l'auspicio è che ci sia e sia parte attiva. C'è una collaborazione a livello di sindaci, un contatto su questi temi costante, comunque come sindaci coinvolti? Diciamo che è un po' delegato all'associazione Comuni di Frontiera che gestisce questa parte, storicamente ha ottenuto l'accordo famoso, molto importante, che credo debba comunque essere la base di partenza, perché non sono soldi regalati ai comuni che stanno sulla frontiera, sono soldi che servono a creare quelle strutture che altrimenti renderebbero invivibili i paesi, che già diventano paesi dormitorio, quindi già dal punto di vista sociale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista dei riflessi comunque complessivamente economici, perché vuol dire impoverimento di manodopera e quindi significa difficoltà di fare imprenditoria locale, quindi scarsa economia autoctona, c'è tutta una modificazione, una sorta di droga del mercato del lavoro che non è facilmente recuperabile, quindi almeno devono essere garantite dei livelli di vita accettabili. E i fondi frontalieri che sono diventati una parte irrinunciabile, fondamentale, anche perché in parte vengono utilizzati, la norma lo consente, col Covid fino al 50% ma anche precedentemente fino al 30%, per manutenzioni e spesi di funzionamento delle opere realizzate con i fondi stessi. E allora torneremo su questo tema di Varese, perché abbiamo lanciato questa sera appunto, cercheremo di capire quali saranno le adesioni e gli sviluppi del tavolo, torneremo anche su quelle proposte di cui ci ha parlato questa sera, perché è un tema sicuramente interessante da approfondire come mobilità alternativa. Per questa sera il tempo è terminato, ringrazio Mandressi e Erculiani, ringrazio ovviamente chi ci ha seguito da casa, Borda e Ritorna mercoledì prossimo, buona serata. In collaborazione con A5, Will Frontalieri, BIM, Bacino Imbrifero Montano del Ticino, Autorità di Bacino dell'Ario e dei Laghi Minori, CNA, ECAP, CGL.